Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con anno 2070 ok allora ho messo un attimo in pausa perché volevo mostrare un paio di cose innanzitutto ho aggiunto un bel po di alloggi e anche un altro centro città perché stavamo andando in rosso di brutto anche e siccome le uniche entrate che abbiamo sono dalle tasse allora aumentato gli alloggi. Poi si è completata la nave da guerra e nell'esatto momento in cui si è completata la dottoressa Bartok ci ha praticamente detto che Father sta preparando anche lui una flotta navale per venire a scontrarci insomma contro di noi. Quindi poi ci ha detto l'antivinus ha scoperto insomma che ha un punto debole e insomma abbiamo sviluppato questo antivirus e dobbiamo andarlo a recuperare ok allora però prima dobbiamo distruggere la nave infetta prima che raggiunga il tuo magazzino d'accordo questo che cos'è drone da combattimento ok dove sono le navi infette credo siano queste vediamo sono queste no e questa nave mercantina nemica si credo sia questa aspetta 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 mettiti qua così quando arriva la becchiamo giusta e poi l'altro era di portare il magazzino un terminale dati allora adesso il solito dilemma dov'è il mio sottomarino è qua no tu devi stare qua questa è la mia barca ma non so perché devo sempre perderli tutti sotto oh eccolo ok perfetto era qua ehm sottomarino vai qua non è esplorazione no ok si sta avvicinando la nave dov'è è qua eccola 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 ok ok la stiamo attaccando credo wow oh cosa no è bellissimo anche con il drone da combattimento forza attacca attacca sì ma drone da combattimento noi siamo qua vabbè non importa non ha capito nulla ok ma non ci attacca proprio ok dai che la stiamo affondando dai che la stiamo affondando ok ci siamo quasi ci siamo quasi evviva le leva che ha distrutto la sua nave ok e va a fondo non la posso guardare finchè affonda no non credo vabbè comunque abbiamo concluso sì il drone qua non ho ben capito a cosa serva il drone come i nemici eh vabbè non l'hai fatto però vabbè comunque eh torniamo qua no no tu stai pure qua che mi servi lì eh tu invece devi prendere vediamo se lo trovo vediamo è questo è l'antibiotico è l'antibiotico un terminale dati no dove lo trovo io un terminale dati questo è un drone difensivo no forse lo trovo qua un terminale dati ripara decodifica analizza autore autore ok eccoci eh praticamente bisognava andare vicino alla dottoressa Bartok allora ehm ti ricordo di portare il terminale dati al tuo magazzino con la maggior discrezione possibile ok ha scoperto le tue intenzioni no oh ok sia oh oddio cosa sono queste cose maledetto no aspetta fermo 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 ok ho una mezza idea forse devo usare il sottomarino allora dov'è il mio sottomarino ehm l'avevo visto no ok eccolo qua vediamo se ce la fa ad andare qua vediamo se ce la fa senza farsi beccare sì ok però passa da sotto ok secondo me dobbiamo usare appunto il sottomarino per arrivare qua senza farci vedere da questi che non credo almeno non credo siano nostri unità scanner non lo so perché sono bianchi i miei di solito sono gialli guarda non credo siano miei vabbè comunque per evitare diciamo a questo di aspetta ce la fa no forse deve tornare su mettiamo il registro dati dentro al nostro sottomarino e così siamo a posto ok ma non si può perché sì che si può ok sì sì l'abbiamo fatta allora adesso adesso no tu ti metti qua pronto per attaccare tu invece vai qua però in sott'acqua ok perfetto allora vediamo adesso se ce la fanno vediamo 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 arriva arriva allora questa si è messa in posizione qua che se cominciano ad attaccare noi siamo pronti invece qua c'è il nostro sottomarino che sta arrivando ok adesso probabilmente dovrebbe uscire dall'acqua no ma forse no non ce la facciamo ce la fai venire no dobbiamo per forza venire fuori dall'acqua dai senza farci vedere ok ok sì d'accordo hai prima richiamato i suoi drone eh vedi che sono i suoi ok ce l'abbiamo fatta lecita a iniziare immediatamente lo sviluppo dell'antivirus ok sviluppo dell'antivirus nel tuo laboratorio di ricerca sì ci sono ci sono ci sono antivirus antivirus no antivirus ok avevo previsto il suo piano stai iniziando a costruire strutture difensive ma dai ma cosa vedete le difese difensive di eh usa quanto seguo nelle immediate vincinanze dell'arca di fa dell'antivirus allora adesso l'antivirus dov'è l'antivirus l'antivirus ok datemi l'antivirus perfetto ah ok d'accordo allora adesso ci conviene fare così eh però ci conviene andare in ok è sott'acqua spero non abbia no il suo sottomarino è qua ma non c'ha non c'è non è sott'acqua quindi non dovrebbe vederci noi comunque qua siamo pronti con la nostra barca con la nostra nave da attacco quindi dovremmo farcela cosa ok devo andare qua però eh come faccio ok mi sa tanto che devo andare con questa allora vieni qua sottomarino mi sa tanto che mi conviene andare con questa così almeno se mi attaccano posso difendermi quindi prendiamo l'antivirus e lo diamo a questa l'ha preso no forse adesso no perché allora perché non me lo passa dimostrazione abbia pattuglia no mi sa tanto allora che devo proprio farlo con il sottomarino e vabbè andiamo ah forse devo beh vai anche te qua ecco la maledizione chi è che mi spara maledetti fermi pausa oddio ok no niente ritirati ritirati che stai morendo ok siamo vivi per miracolo ritirata oddio siamo messi abbastanza male con il nostro sottomarino maledizione siamo messi male con tutti come facciamo allora ragioniamo e adesso ho la nave tutti e due completamente distrutti si possono riparare forse qua forse addirittura mi conviene costruirne una nuova allora vediamo se si possono riparare ok allora ho costruito due navi da guerra adesso andiamo qua vediamo se ce la facciamo stavolta innanzitutto devo recuperare le merci cioè le merci l'antivirus quindi io farei una cosa di questo tipo mando questo a colpire tu vai qua e prenditi questo ok adesso vai qua attaccando tu fai così tu fai così no più vicino più vicino ok dai forse dai attaccate maledizione oddio non ce la faremo mai ok questa è andata dai che ce la facciamo dai che ce la facciamo dai che ma sì ok fermi fermi spero che l'antivirus riesca a disattivare i sistemi di father ok mi sa che però questa è morte ok ha saputo che l'antivirus funziona ok funziona funziona però intanto la mia nave sta morendo drasticamente ok dai ce l'abbiamo fatta e presidente avvisa delle unità di father in avvicinamento oh mio dio ottio vai con la battaglia mi sa di sapere che l'antivirus sta funzionando e sta riprendendo gradualmente il controllo di core oh finalmente ok ce l'abbiamo fatta ok improvvisamente libera la sua arca dai blocchi di sicurezza e fugge da core come father fugge da core ma father può fuggire davvero anche se è soltanto un'intelligenza artificiale ma abbattetelo ok se ne sta andando vabbè addio ce l'abbiamo fatta si ok hai vinto d'accordo allora alla panoramica missioni adesso si è sbloccata la missione numero 3 ah sì ma professor devi cerca alleati con cui intervenire è appunto quindi father è ancora tra virgolette vivo quindi il virus sta ancora agendo in father dobbiamo sconfiggerlo allora ok oh è tornato anche rufus torna d'accordo è infettato vedete il virus ha infettato i sistemi di father la super father ha disattivato e inondato core senza energia è colpita da una serie di calamità la città non può più funzionare devono rendersi conto che possono fermare father solo unendo le forze ok d'accordo allora io direi sì dai iniziamola sotto shock dopo aver visto i danni che father ha infarto a core effettivamente ha distrutto l'intera città ha chiesto a rufus torna di unire le forze nella lotta contro il father ok ok ma lo fa minimisa la situazione rifiuta di fa ma va là perché non vuole aiutarci a rufus riusciano al priorità le misure di sostegno per core neanche perché non vogliono collaborare con me scoprirò scoprirò la verità d'accordo allora vediamo un po' cosa possiamo fare adesso nel frattempo mi è rimasta qualche flotta mi è rimasto il mio sottomarino eh lo so che è fuori controllo ok convinci global trust initiative ok di riprendere la discussione con jana rodriguez apri il menu diplomazia ok allora non hanno accettato quindi non cambiare l'idea senza prove chiare d'accordo come facciamo allora ricevuta una chiamata di scorsa da un luogo vicino e ti chiedi di scoprire che sta succedendo ok bisogna tornare per esplorare l'isola indicata è la mia nave poverina è un po' distrutta a dove è qua non ho visto bene allora andiamo sì credo qua comunque allora aspettiamo che arrivi sì eccolo qua tutta l'attenzione di ingegnere è rivolta all'invio della chiamata di soccorso ma non si accorgi di te sono qua vuole che trovi l'imittente della chiamata di soccorso sono qua sta cercando di prestare la fornitura di energia ha bisogno di un urgente di uranio ok sviluppa i moduli seguenti costruisci il magazzino e se esce attività oggetto ok d'accordo allora torniamo qua sviluppa i moduli seguenti nel tuo laboratorio trivella per uranio allora vediamo un po' eh trivella per ferro trivella per uranio ah non abbiamo i soldi aspettiamo un attimo che arrivano adesso poi mi serve costruisci il magazzino nei pressi della miniera e attiva l'aggetto il magazzino ok d'accordo aspettiamo un attimo che arriviamo a 5000 ci siamo quasi 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 ok perfetto trivella per uranio poi costruisci il magazzino nei pressi di miniera Bradford che sarebbe sotto sito minerario allora qui l'uranio non c'è nulla nulla ok dove dobbiamo costruire farro ok allora ho qualche problema a capire dove piazzare la trivella per uranio quindi dovrò mettermi a cercare un po' in giro a vedere se su qualche isola c'è qualche giacimento di uranio comunque direi che però per questo episodio possiamo fermarci qua quindi lasciate un piaccio e un commento se il video vi è piaciuto iscrivete al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti allora facciamo una strada cosa è questa cosa un orso abbiamo anche gli orsi allora facciamo così quindi